Oggi vorrei farvi una domanda, provocatoria e paradossale. Ma veramente voi pensate che salute e sicurezza nelle aziende siano un obbligo di legge? Io sono fermamente convinto che non lo sia. Credo che sia qualcosa di molto più articolato, delicato, importante di un obbligo di legge. Il problema è che negli ultimi anni in molti anche involontariamente hanno confuso quello che è un mezzo, cioè la legge, con il fine che non è adempiere la legge ma è tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Io mi occupo di formazione all'interno delle aziende e quando tratto il tema della sicurezza, magari in aula o per un evento aziendale molto più grande, inizio sempre da una domanda che è, che cos'è per voi la sicurezza? La prima risposta che ottengo di solito è una legge, un insieme di procedure, di norme, di obblighi e poi ci si svizzarisce con i numeri 626-8108. Una volta nel cercare di spiegare che la sicurezza non è una legge qualcuno più raffinato mi ha anche detto ha ragione, è un decreto legislativo. Beh, questi brevi scambi di solito mi fanno capire che sarà un'altra due giornate di lavoro. Parlare di sicurezza oggi nelle aziende significa scontrarsi con la quotidianità della vita aziendale, significa districarsi tra molteplici norme in continua evoluzione, anche di difficile interpretazione. Significa andare a toccare dei costi che spesso sono vissuti più come una spesa che non come un investimento che crea un valore aggiunto. E anche la formazione viene vista come un problema organizzativo, come un'interruzione dell'attività lavorativa e dai partecipanti a volte anche come qualcosa di noioso, un'inutile perdita di tempo. Il problema della sicurezza nelle aziende però ha origine in quello che è il concetto della sicurezza nella nostra società. Pensateci un attimo. Che noi siamo in auto, in treno, al cinema, in qualunque ambiente. La sicurezza ci viene comunicata come un insieme di obblighi, di norme, di regole a cui corrispondono delle sanzioni, delle multe, che spesso ci vengono ricordate poi da dei cartelli. Questo che voglio dire è che non penso che le regole, le leggi, le norme siano inutili o che andrebbero tolte. Assolutamente no, sono fondamentali. Ma credo che serva qualcosa di più. Credo che sia importante andare ad agire su quella che è la motivazione delle persone a muoversi verso comportamenti sicuri. E voglio spiegarvelo utilizzando uno strumento altamente tecnologico, cioè i mattoncini dei miei figli. Mi servono per spiegare come funziona lo schema del nostro cervello. Tutti i nostri comportamenti hanno a monte uno schema che si muove ogni volta nel nostro cervello e che è fatto di quattro fasi. Voglio, posso, devo, faccio. Voglio fare qualcosa, ho un obiettivo, ho un bisogno, valuto se sono in grado di farlo e se sono in grado di farlo mi sento in dovere morale con me stesso di realizzarlo e quindi lo faccio. La legge invece, la normativa, subentra esattamente a metà di questo schema che abbiamo in testa andando a spezzarlo perché la legge ci dice cosa devi fare, cosa dobbiamo fare e non tiene conto di cosa vogliamo fare. Per questo è importante andare a lavorare sulla motivazione delle persone perché come vi sentite quando siete obbligati a fare qualcosa che in realtà non volete fare? Vi sentite bene o vi sentite male? Probabilmente vi sentite frustrati. Ecco allora che è importante andare a lavorare sulla motivazione delle persone, spiegare loro qual è il senso di agire un comportamento sicuro. E allora, proprio in questo senso, vi invito a fare una riflessione su quello che è successo per esempio con il Covid. Finché ci hanno detto state a casa o vi facciamo una multa, le tangenziali erano piene di auto che volevano andare verso qualche meta nel weekend. Quando abbiamo capito invece che la minaccia era reale, che potevamo ammallarci o fare ammalare qualcuno a noi caro, quando abbiamo visto l'esempio dei medici, dell'infermiere che lottavano contro questo male, allora abbiamo capito che dovevamo stare a casa. E quindi tornando alla domanda iniziale, io mi occupo di formazione nelle aziende e mi piacerebbe un giorno chiedere che cos'è per voi la sicurezza e sentirmi rispondere che la sicurezza è avere cura per se stessi e per gli altri, che è un gesto di amore nei confronti della vita. E allora, prima di lasciarvi, come sono abituato a fare, vorrei lanciare uno spunto di riflessione e anche fornire uno strumento. E quindi vi lancio una sfida, uno stimolo. Prendete un foglio di carta, tirate una riga a metà con una matita e sul lato sinistro andate a scrivere che cos'è per voi la sicurezza. Sull'altro lato invece scrivete qual è la vostra motivazione personale, intima, per agire in sicurezza, per tutelarvi, per stare bene. In pieno stile di tagliare la loro sicurezza voglio condividere con voi quella che è la mia motivazione personale. Io tutte le sere, prima di andare a dormire, compio sempre un gesto. Prima di mettermi a letto vado a sbirciare nella cameretta dei miei figli che hanno 4-7 anni i loro volti mentre dormono, con questi sguardi sereni di chissà che cosa sta sognando. È quel momento di dolcezza, me lo porto nel cuore tutto il giorno successivo. Me lo porto nel cuore quando, mentre percorro centinaia di chilometri per lavoro, evito di fare quel sorpasso stupido che mi impedirebbe di tornare in casa la sera da loro. E allora vi chiedo qual è la vostra motivazione ad agire in comportamento sicuro. E con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro e mi raccomando hashtag Italia Love Sicurezza, hashtag 7 domande, hashtag fare bene. Ciao!